dire che l'anno scorso beh è stato un po' così inaspettato poi non c'è tutta l'atmosfera questioni squadra non ho potuto essere comunque la sera eccetera però credo sarebbe stata come oggi però adesso ho un gusto diverso è anche una conferma è una rivoler vincere la bagna l'amore di squadra grazie a chi comunque sia mi ha seguito che mi è stato vicino anche una settimana che non doveva essere così di testa invece mi ha mantenuto forte e oggi riuscire ad arrivare qua e portare a casa questo risultato riparare di tanti sacrifici che dunque possa un giorno vivere perché è veramente veramente bene poi grazie bravo 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 Grazie